Parliamo adesso di salute, inizierà tra pochi giorni il 24 settembre il Festival della Salute a Viareggio. 250 eventi in quattro giorni alla presenza tra gli altri anche del Ministro Beatrice Lorenzin. Novità di quest'anno, un'area dedicata al mondo vegano, uno spazio per estetica e bellezza, mentre sarà ampliata l'area dedicata al diabete. Ma sentiamo l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi che ha presentato questa mattina in regione l'appuntamento di Viareggio. Un momento naturalmente di riflessione, di dibattito, ma anche di confronto con tante realtà, con il mondo del volontariato. Ci saranno momenti in cui si parlerà anche di sport, in cui saranno fatti screening, in cui si parlerà di temi come il diabete.